Non nascondere l'emozione profonda, entrare in questo Parlamento europeo dopo aver visto all'ingresso le bandiere, le bandiere colorate di tanti Stati affratellati nel Parlamento europeo, dove si parla, si discute, ci si guarda negli occhi. Non è stato sempre così. E la giornata del 27 di gennaio è una giornata a volte ripetuta troppo, ritenuta basta che ancora ti parla del 27 di gennaio, dando al 27 di gennaio un'importanza che in fondo non è che Auschwitz sia stato liberato quel giorno. L'armata rossa è entrata, ed è molto bella la descrizione che fa Primo Levi nella tregua, di questi quattro soldati russi che aprono e si trovano davanti, senza liberare niente perché i nazisti erano già scappati da tanti giorni, si trovano di fronte a questo spettacolo incredibile al momento ai loro occhi e poi più tardi, molto più tardi, diventò uno spettacolo incredibile per chi lo vuole guardare, qualcuno non lo vuole guardare neanche adesso, dice che non è vero. Ma il 27 di gennaio io avevo allora 13 anni ed ero operaia schiava nella fabbrica di munizioni Union, fabbrica che c'è tutt'ora, dove facevamo bossoli per mitragliatrice. Di colpo, in fabbrica, dopo che avevamo sentito scoppi lontani, perché lavoravano nella città di Auschwitz e sentivamo e sapevamo che le cose stavano succedendo a Birkenau, dove ero stata fino a pochissimo prima, e venne il comando immediato dalla fabbrica stessa di cominciare quella che fu chiamata la Marcia della Morte. Perché io non fui liberata il 27 di gennaio dall'Armata Rossa, io facevo parte di quel gruppo di più di 50.000 prigionieri ancora in vita e che eravamo stati obbligati in quelle condizioni fisiche, senza parlare di che cos'erano quelle psichiche, di cominciare quella marcia che durò mesi e di cui si parla pochissimo, la marcia della morte, e che io quando parlo nelle scuole da nonna, come parlo da nonna da 30 anni a questa parte, dico che ognuno deve una gamba davanti all'altra nella vita, non appoggiarsi mai a nessuno, perché nella marcia della morte non potevamo appoggiarci al compagno vicino che si trascinava sulla neve coi piedi piagati come noi e che veniva finito dalle guardie della scorta se fosse caduto, ucciso, nessuno poteva rimanere lì su quelle strade, traversammo. Come si fa? Come si fa in quelle condizioni? Perché la forza della vita è straordinaria, è questa che bisogna trasmettere ai giovani di oggi che sono mortificati dalla mancanza di lavoro, mortificati dai vizi che ricevono dai loro genitori molli per cui tutto è concesso, mentre la vita non è così, la vita poi ti prepara a questa marcia che deve diventare marcia per la vita e noi non volevamo morire, noi eravamo pazzamente attaccati alla vita qualunque fosse. Era il male altrui, eravamo giovani ma sembravamo vecchi, senza sesso, senza età, senza seno, senza mestruazioni, senza mutande. Non si deve aver paura di queste parole perché è così che si toglie la dignità a una donna. È così. E' abituata ormai a sopravvivere perché c'era qualche cosa dentro di noi, che ci diceva avanti, 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 avanti e giorno dopo giorno, campo dopo campo. Io mi ritrovai alla fine del mese di aprile del 1945, pensate in quella situazione, quanto era lontano il 27 di gennaio. Io ero una ragazza ferita, ero una ragazza selvaggia, io una ragazza che non sapeva più mangiare con la forchetta e il coltello perché ancora ero abituata a fressen, nicht essen, che voleva dire come le bestie che mangiano, fressen, non essen. E come tale ero bulimica, e come tale ero anche disgustosa, e come tale ero criticata anche da quelli che mi volevano bene, volevano di nuovo la ragazza borghese con la buona educazione familiare. E' difficile ricordare queste cose da 75 anni, un periodo assolutamente incredibile, mentre tutto il passato ha fatto sì che i popoli a volte non si conoscessero. E le bandiere fuori, che ricordavo all'inizio, mi hanno fatto proprio ricordare quel desiderio di trovare con le olandesi, con le francesi, con le polacche, con le tedesche, con le ungheresi, una parola comune. Per esempio io dell'ungherese ho imparato una sola parola, che era pane, kenere si dice in ungherese, ed è la parola principale, che vuol dire fame, ma che vuol dire anche sacralità, di una cosa che viene sprecata oggi senza neanche guardare che cosa si butta via. Allora io da tre anni almeno sento che i ricordi di quella ragazzina che sono stata, mentre oggi sono una vecchia di 90 anni, non mi danno pace. Non mi danno pace perché da che sono diventata nonna io, 30 anni fa, 32 anni fa, di mio nipote, uno dei miei tre nipoti, per fortuna ne ho tre, oltre che tre meravigliosi figli, e che il Parlamento europeo e la non mia estinzione mi sembrano in questo momento lo stesso miracolo, non so se sbaglio. Quindi, anche oggi fatico a ricordare, ma mi è sembrato un grande dovere accettare questo invito e avere questa occasione per ricordare il male altrui, ma anche per ricordare che si può una gamba davanti all'altra, essere come quella bambina di Theresien, che chi andrà a Praga, o c'è già stato, e ha visitato il museo dei bambini che a Theresien potevano fare le recite o colorare coi pastelli, e che poi un giorno furono tutti deportati e uccisi ad Auschwitz per la colpa di essere nati, perché erano bambini e quindi non potevano aver fatto del male a nessuno, c'è una bambina di cui non ricordo il nome, che ha disegnato una farfalla gialla che vola sopra i fili spinati. Io non avevo le matite colorate e forse non avevo e non ho mai avuto la fantasia meravigliosa della bambina di Theresien, che la farfalla gialla voli sempre sopra i fili spinati. E questo è un semplicissimo messaggio da nonna che io vorrei lasciare ai miei futuri nipoti ideali che siano in grado di fare la scelta e con la loro responsabilità e la loro coscienza essere sempre quella farfalla gialla che vola sopra i fili spinati. grazie a tutti.